Il premiato viene sempre scelto da un comitato che poi firma il documento di consegna e quest'anno la decisione unanime è stata quella di assegnare il premio Schina Cina 28esima edizione a Brunella Raviera. Una seguente motivazione, la quale grazie all'incontro con l'anima gemella non ha esitato a lasciare dopo vent'anni il lavoro da responsabile amministrativo e logistico per coltivare vigneti e nocciolenti nella serenità che solo la nostra langa sa dare. Eccolo qui, facciamo le foto, diritto, vieni Walter, mettiti qua vicino. Grazie. Grazie. Grazie.